All'inizio del progetto abbiamo intervistato i clienti che volevano guidare in modo diverso. Ci hanno parlato di berlina sportiva. Ciò che amano di una berlina sportiva è il lato elegante, raffinato. E poi hanno parlato anche di 4x4. Ciò che la gente cerca nel 4x4 è il suo lato robusto, forte, potente, protettivo. L'insieme di tutti questi aspetti ha creato una nuova silhouette, una berlina a quattro porte rialzata. E questa è Citroen DS4. Mi sono davvero divertito a disegnarla perché è un'auto molto particolare. Tutto è iniziato da una pagina bianca e una matita nera. Disegnare è stato completamente naturale e spontaneo. Ci si confronta sempre un po' con i colleghi, con i compagni di lavoro. Starò forse esagerando troppo o troppo poco. Sarò abbastanza espressivo. Già dai primi schizzi sapevo che sarebbe stata una bella auto. La prima volta che ho mostrato la bozza ai fornitori o ai realizzatori di prototipi ci hanno presi per matti. Pensavano davvero che non ci saremmo mai riusciti. E qualche volta ne ho dubitato anch'io. A volte su certe vetture lavoriamo con tempi stretti e ci chiamano all'ultimo momento solo per decorare un progetto già esistente. E credo che tutti abbiano capito che per portare a termine questo obiettivo siamo stati obbligati a fare una sintesi di tutte le creazioni fatte sin dall'inizio di tutti i creativi. Durante lo sviluppo mi è stato detto possiamo rilavorare un po' il tono, più opaco, più nero, ma così alla fine non si vedrà niente. Dai ok ci proviamo e all'improvviso ti rendi conto che è proprio quello che ci voleva. Quando abbiamo detto all'inizio che volevamo realizzare un'auto alta come un 4x4 con grandi ruote e poi che volevamo avere l'impressione di guidare una berlina ci hanno presi per matti. Sono inglese ovvio e Citroen DS4 è una macchina fantastica sulla quale ho avuto la possibilità di lavorare. È un'auto molto dinamica che sembra una berlina sportiva ma con spazio sufficiente per quattro o cinque passeggeri. Citroen DS4 è qualcosa di diverso, di mai visto. Tradizionalmente una berlina non ha una linea così dinamica. Siamo riusciti a creare una berlina con quattro porte senza rinunciare alle prerogative di stile. Il grosso vincolo di partenza era nascondere una porta nella parte posteriore. A volte ho pensato che non ci saremmo mai riusciti. Costruire una maniglia che non si vede non è così semplice. Gli ingegneri ci dicevano qui state delirando un po', vi state spingendo troppo in là ragazzi. Ci siamo battuti su diversi punti, non tutto era dato per scontato e alla fine siamo riusciti a conservare questa porta posteriore nascosta sulla quale abbiamo disegnato una semplice giuntura. Abbiamo sgobbato per un anno per ultimare quella parte. Ora quando la guardiamo ci sembra così semplice. Anche a me sembra semplicissimo. Ma non era per nulla ovvio. Gli amici mi dicevano se riuscissimo a farla così sarebbe fantastico e alla fine è così che è stata realizzata. Quando mi capita di incrociare il designer ammette sempre che è fiero del fatto che la sua auto non sia stata cambiata. Il suo prototipo adesso è in strada. Bisogna essere molto perseveranti. Possiamo avere un'idea geniale ma se non ci si batte non vedrà mai la luce. Bisognava essere come Asterix per essere motivati a realizzare quest'auto. Abbiamo lavorato come dei pazzi. È là che mi sono detto siamo riusciti a realizzare una vettura unica. Auguro veramente a tutti i designer di avere l'occasione di lavorare su un progetto come Citroen DS4. È veramente un... è un privilegio. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Quando si entra in quest'auto si ha una vera e propria sensazione di classe, di chic. È vero che è unica. Non si è mai vista da nessun'altra parte.